Se hai ricevuto problemi riguardo alla connessione sul gioco, te credo tu è il gioco delle macchine, è possibile risolvere il problema riguardo alla connessione matchmake oppure che non riesci a connetterti ai server, ti sconneti, ti fa uscire dal gioco, ti fa uscire dalla partita, quindi in questo caso andiamo direttamente sulla nostra connessione. Quindi vai direttamente su impostazioni rete e internet, tasto destro sopra qua, impostazioni rete e internet, impostazioni di rete avanzate ed eccole qua. Ovviamente io uso sempre un cavo ethernet che è meglio della wifi per non avere sempre problemi di lag, perdita di connessione, disconnessione e cose così. Quindi vado direttamente sulla mia connessione ethernet, vado su modifica per fare una configurazione alla rete, vado sul 4 tcp pv4, uso sempre un indirizzo server dns automaticamente oppure potresti usare l'indirizzo del cloud flare, ti connetti direttamente a questi server dns cliccando quindi inserisci 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 e ti connetti direttamente ai server dns. Oppure potresti usare quest'altro qua, 8, 8, 8, 8, 8, qua invece metti 4, 4 e qui metti 8, 8, fai ok e salvi così la configurazione dei server dns e fai ok. Se non dovesse bastare possiamo direttamente andare sul ripristino della rete, che questa è anche una parte molto importante sul nostro computer, fai così il ripristino della rete, poi devi aggiungere di nuovo la password e cose così sulla tua connessione e riavvia il computer. Quindi ti consiglio di fare un ripristino della rete. Se non dovesse bastare, in descrizione ti ho lasciato così dei comandi da inserire sul prompt dei comandi oppure il powershield da fare direttamente svuotando così le cache del dns sulla nostra rete. Quindi è come se poi la useremo per la prima volta la connessione sul nostro computer. Quindi un vero e proprio ripristino. Ed eccola qua. Ovviamente inizieremo ad aggiungere questo qua ipconfig spazio slash release, ci disconnetterà dalla rete e poi inseriamo quest'altro qua per riconnetterci alla rete e poi facciamo un ripristino delle cache. Svodiamo le cache e facciamo un ripristino della rete. Quindi andiamo su cmd, esegui come amministratore il prompt dei comandi, facciamo copia e lo inseriamo qua e facciamo invio. Una volta fatto, come puoi vedere mi ha disconnesso dalla rete, aggiungiamo il secondo comando. Questi metodi funzionano su tutti, quindi veramente su tutti i giochi. Ora ci siamo connessi di nuovo alla rete e ora non ci resta che svuotare le cache e fare il ripristino. Basta, una volta fatto, fai exit. Una volta eseguito tutti questi comandi, se non dovesse bastare, ti consiglio di andare direttamente su gestione dispositivi, tasto destro su start, gestione dispositivi. Proviamo così le nostre reti, questo è Realtek per il mio cavo Ethernet e questa qua invece è TipLink Wireless, la mia scheda di rete. Lascio destro sopra, aggiorno i driver e vedo che i driver mi ha dato per aggiornarli e installare così il nuovo driver per il mio dispositivo. Avanti e installo così i driver per il mio dispositivo. Se non dovesse bastare ancora, puoi direttamente andare su Windows Update e vedere se devi fare qualche aggiornamento. Ovviamente qua mi dice riavvio necessario perché ho fatto un aggiornamento, quindi l'ho scaricato e ora lo devo installare sul mio computer. Quindi quello che ti consiglio di più è di usare quei comandi che ti ho lasciato in descrizione ogni volta che accendi il computer e prima di entrare in un gioco fai quella procedura dei comandi da mettere sul CMT. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! Ciao!